Siamo a Paglieta, questo è il ponte di Guastacconcio che ha una lunga storia non solo perché è stato realizzato nel dopoguerra ma anche una lunga storia perché da tempo si parla di metterlo in sicurezza. Era chiuso da dicembre e ora scopriremo perché dal sindaco Ernesto Graziani in queste ore è crollato. A dicembre era intanto chiuso? Sì, il 14 dicembre la provincia ha disposto la chiusura di questo ponte ma chiusura che è stata disposta solo perché qualche giorno prima io stesso avvisai la provincia della presenza di un'anomalia che era già conosciuta ma che mi era stata segnalata in quanto molti che percorrono quotidianamente questo ponte sostenevano poi come io ho riscontrato che c'era stato un ulteriore abbassamento della sede stradale. La provincia che aveva precedentemente dato in carico ad una ditta di monitorare l'andamento di questa grave anomalia ha accertato poi che effettivamente c'era stato un abbassamento improvviso addirittura di 6 cm e di conseguenza ne ha disposto la chiusura. Ma la cosa che mi preme raccontare quindi che certo oltre al fatto come dico e ripeto che la segnalazione alla provincia era venuta da me ma nel corso del mio mandato, io sono sindaco dal giugno del 2019, questa nel corso del mio mandato è la terza chiusura precedentemente io in modo autonomo senza interpellare la provincia o aspettare che vi provvedesse autonomamente magari in ritardo avevo disposto la chiusura attraverso ordinanze urgenti e questo per salvaguardare l'incolumità pubblica. È un ponte di poche centinaia di metri però risolve il problema di tantissimi cittadini, di aziende, ci sono i cittadini insomma che non sanno più cosa fare, non si sanno dare risposta sul perché da anni la problematica persiste. Questo è vero, avete assolutamente ragione perché questa anomalia di cui stiamo parlando che poi ha determinato il collo è conosciuto da almeno 15 anni. Bisogna pure dire che è un ponte vincolato dalle belle arti che aveva impedito che potesse essere demolito e ricostruito ma aveva disposto unicamente la possibilità di ristrutturare l'esistente. Sindaco, ora che si può fare, che si fa? Questa strada è utile o occorre ripristinare la viabilità? Questa strada è fondamentale, c'è un'intera economia, tenga presente che la Val di Sangro dà lavoro a 25.000 persone e questi due versanti, settentrionale e meridionale, sono percorsi quotidianamente da migliaia di persone. La cosa che mi appresto a chiedere è lo stato di emergenza, in modo che queste persone che oggi sarebbero costrette a chiudere le loro attività abbiano dei ristori economici subito, nell'immediatezza e poi bisogna con la massima celerità provvedere alla ricostruzione del ponte.